buona sera amici sportivi tifosi rossoneri tifosi della lucchese 25esima puntata stagionale di curvo ovest come sempre siamo qui in diretta sono le 21 16 15 secondi lo diciamo proprio per dimostrare che siamo in diretta con noi questa sera il difensore centrale della lucchese francesco benassai buonasera francesco grazie di essere con noi e poi l'opinion leader giulio castagnoli buonasera giulio buonasera buonasera a tutti francesco come andiamo bene dai andiamo bene andando bene sì molto bene siamo dicevo prima siamo forse in un periodo di attesa per le cose che riguardano il campo e che riguardano quindi anche te tutti i tuoi compagni di squadra e anche per altre vicende perché sappiamo c'è sempre la vicenda stadio in ballo sappiamo quanto è passato un mese da quando è arrivato bulgarella quindi fra un mese credo subito dopo pasqua ci sarà l'insediamento di bulgarella e niente siamo siamo in attesa speriamo no opinion leader come ci insegnano i vecchi saggi in dolce attesa eh dolce attesa magari no vabbè dolce attesa che siano tutte cose positive che siano tutte cose positive senti francesco tu sei di livorno sì Livornese doc eh Livornese doc cresciuto nel Livorno sì come vivi da Livornese un Livorno in serie di in questo momento è un po mi dispiace perché ho vissuto anni anni belli a Livorno ho vissuto anche anni che Livorno è stato in serie a eh ho vissuto anche eri piccolino magari all'epoca sì molto piccolino era grande avia come lo chiamate picchi o l'ardenza ancora come lo chiamate picchi io lo chiamo sempre sempre picchi certo poi ho avuto la fortuna diciamo di fare una convocazione prima squadra per me è sempre un motivo d'orgoglio ecco e quindi mi dispiace un po' perché una città come Livorno merita altro è chiaro perché è una piazza molto importante e spero che arrivi il prima possibile ad alti livelli quando sei stato convocato in prima squadra che campionato faceva Livorno? Serie B Serie B quindi parliamo neanche anche di pochi anni pochi anni fa non mi ricordo mi sa sei anni fa sei anni fa se non sbaglio poi l'anno scorso l'eccellenza poi adesso la serie io credo che che sarà questione di tempo per gli amici per gli amici Livornesi senti numero 23 io lo chiedo sempre l'ho chiesto anche gli altri tuoi compagni di squadra no è una curiosità per per conoscere il motivo per cui uno sceglie ad esempio come nel tuo caso il 23 oppure un altro numero sì l'ho scelto per mio nonno perché ero molto legato al mio nonno è nato il 23 e quindi per questo ecco è un bel un bel gesto da un bel gesto da parte da parte tua senti rimane un po' d'amaro in bocca per questo Lucchese Ancona 1 a 1 è l'idea che avete lasciato due punti sul campo sì quello sì perché abbiamo giocato abbiamo fatto grande partita secondo me prendere gol al 44esimo fa male oltretutto con l'uomo in più no tanto è certo sì perché hai pedine di partire con le immagini se soprattutto quello e però nel senso è ormai nata così dobbiamo pensare già alla prossima e pensare a vincerla ecco possiamo dire che non è la prima volta che forse lasciate qualche punto anche se è vero che c'è chi dice che alla fine del campionato tutto si compensa però noi siccome seguiamo la Lucchese parliamo della Lucchese sì abbiamo lasciato tanti punti per strada però secondo me possiamo fare meglio sempre meglio soprattutto in diverse partite abbiamo sbellato tanto davanti alla porta e doveva noi dobbiamo chiudere la partita prima secondo me ecco questa è la nostra tu ruolo è difensore centrale di sinistra sì sei mancino sì quindi tiri tiri hai giocato quasi sempre perché leggevo oggi 25 partite se non sbaglio quest'anno non lo so non lo ho contato no 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 leggevo così dovrebbe essere quindi 25 su quanti abbiamo giocato 30 quindi hai giocato possiamo dire quasi sempre quindi stai trovando anche una continuità certo sì tra l'altro l'attuale mister della Lucchese lo hai avuto già ai tempi del Ponte d'Era poi hai vissuto un anno a Taranto sì è stata un'esperienza proficua è stata un'esperienza che mi ha formato molto ecco era il problema il primo anno che andavo fuori casa quindi non è stato facile anche se comunque a 23 anni comunque non è stato facile ecco però è stata un'esperienza molto formativa e ho imparato molto sono quelle cose che aiutano a crescere sì 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 certo Pignone Leader che mi dici di questo Lucchese ancora uno a uno di cui stiamo vedendo alcune fasi vabbè è un assai stesso a me sono due punti quando ti ritrovi in vantaggio con l'uomo in più per tutto il secondo tempo e prendi quasi al novantesimo è logico che è sì diciamo detta così sì cioè può andar bene diciamo la motivazione che avete detto ma è onestamente è stata una partita una delle tante partite di questo campionato io Francesco ha detto abbiamo giocato una grande partita io in tutta sincerità è tanto poi il calcio è bello per il comune alla propria idea io di grandi partite quest'anno non me ne vogliate ma non l'ho mai viste ma non l'ho mai vista neanche nelle partite di squadre di vertice perché io guardo anche gli spezzoni o qualche pezzo di partita mi stai dicendo che anche le squadre di vertice non le hai mai viste giocare assolutamente assolutamente poi abbiamo visto a Luca Reggiana che non ha fatto niente e ha vinto la partita questo è il bel gol di Panico bel gol di Panico se io sono l'allenatore se io sono l'allenatore dell'Ancona domenica monto sul Puma li faccio venire tutti a casa interna però a te fai bene essere severo sei critico sei l'opinion leader ti dimmi come si fa a prendere un gol di testa a centro area a difesa schierata da un giocatore non è neanche due metri e venti da te va bene siccome spesso si è stato critico nei confronti del nostro calcio in generale io voglio raccontare un aneddoto clamoroso lo voglio dire ieri sera dopo il primo tempo di dovrebbe essere il massimo, il top del calcio dopo il primo tempo di Bayern Monaco, Paris Saint Germain mi sono messo a guardare altre cose e poi mi sono addormentato che il calcio no 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 ma questo magari non c'entra nulla no no ma mi trovi d'accordissimo che il calcio ha subito un'involuzione non possiamo neanche pretendere la luna da questi ragazzi no 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 ma infatti ti sto dicendo che il calcio ha subito un'involuzione generale a partire appunto dalle nazionali per arrivare fino ai grandi club questo è un dato di fatto diciamo anche scontato e appunto perché il calcio ha avuto un'involuzione a quei livelli lì figuriamoci a livelli diciamo di serie C dove la Lucchese gioca per cui io ti dico domenica abbiamo visto ora mi dispiace che c'è Francesco che è stato diciamo anche si fa per ribattere quello che era sull'uomo che ha fatto il gol del pareggio si fa per sollecitare le persone anche a casa però abbiamo visto due cose diciamo che siamo ancora arrivati al gol dell'Ancona eccolo qui eccolo qui è questo forse due gol a difesa abbiamo qui Francesco Benassai a difesa schierata io dico che ora questo è già diverso perché insomma diciamo l'azione questo è un pallone tagliato si l'altro era su un calcio d'angolo quindi io dico l'allenatore dell'Ancona se era l'allenatore dell'Ancona i miei giocatori vengono a casa non mi ribatto all'acido opinion leader stavo per dire acido opinion no acido opinion leader io come ho detto inizialmente non sono d'accordo infatti il bello è quello per me abbiamo fatto partite migliori sicuramente anche peggiori ecco però come dicevo prima secondo me abbiamo fatto una bella partita poi che in un'occasione perché secondo me ti importa comunque non l'hanno fatti loro massimo uno ma anche noi però eh sì quello sono d'accordo certo però loro noi avevamo in mano la partita secondo me poi dovevamo chiudere la prima come dicevo inizialmente questo secondo me è la nostra comunque il nostro difetto però questo è un difetto di fabbrica questo perché poi alla fine e tante volte io anche domenica ho sentito delle critiche al mister e secondo me sono ingiuste perché quando un allenatore si rende conto che la propria squadra per un motivo o per un altro le partite non riesce a chiuderle l'unica cosa da fare è quella di cercare di non farle riaprire alle avversarie quindi anche di stare abbastanza è chiaro è chiaro lo sentirei da Francesco sul fatto che generalmente io ho fatto un esempio clamoroso ma forse perché ho la mia età la sera sono stanco per quello mi addormento ma il fatto che in linea generale non dico neanche che si giochi male quanto mi sembra un po' molto omologato il calcio non so se hai capito cosa voglio dire in senso il calcio spesso si gioca tutti allo stesso modo il calcio come credo in tutte le cose nella vita cambiano quindi nel senso ci sono i cambiamenti e dobbiamo accettare i cambiamenti io sono di questa idea qua poi che ci sono miste che giocano in un modo e altri miste che giocano in un altro quello in senso ognuno ha la sua idea ecco a te da difensore ti piace partire come è di moda ora palla da dietro con la palla dare al portiere poi riprendere cercare di insomma di creare il presupposto per poi trovare il campo aperto oppure certo a me piace molto giocare con la palla ecco è una delle mie doti principali secondo me senti com'è giocare a fianco del signor Tiritiello senza una cosa è tranquillizzante sì diciamo di sì ecco sì poi ci troviamo molto bene ecco poi da come dicevi anche prima te da tante partite che giochiamo insieme quindi ormai abbiamo comunque un'affinità ecco Tiritiello Benassai è un po' Tiritiello Benassai Tiritiello Benassai ma ormai Quirini Tiritiello Benassai Alagna Quirini Tiritiello Benassai Visconti nelle ultime due parti con cucchietti in porta credo che il reparto arretrato sia quello no opinion leader che alla fine forse ha dato la maggiore continuità le maggiori garanzie indiscutibilmente l'ho sempre detto e lo continuerò a dire ora non perché c'è lui qui stasera no 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 ma poi i numeri parlano chiaro cioè nel senso ci sono numeri che non possono essere contraddetti per cui ti dico la Lucchese come difesa dà una certa garanzia credo che proprio come difesa come reparto dà una certa garanzia poi secondo me c'è un centrocampo che fa poco filtro e quindi tante volte hai scritto perché scrive anche questo signore scrive devo dire devo fare dei complimenti anche dei buoni pezzi ti ringrazio pur non professandola pur non esercitando la professione di giornalista nella vita faccio ora potrei dire una cosa che però dopo mi mordo la lingua no è scritto che il centrocampo della Lucchese manca un uomo in grado di indirizzare il gioco insomma lo hai ripetuto ancora una volta sì sì perché chiaramente e parallelamente cioè non solo manca anche un filtro vero e proprio perché l'unico che può fare un filtro diciamo discreto è Franco come caratteristiche come giocatore gli altri sono un po' più magari tecnici ma meno adatti alla mi stai dicendo che il centrocampo della Lucchese secondo te non è stato assemblato nel modo giusto ti ripeto poi la Lucchese ha fatto con quello che poteva come ormai tutti sappiamo nel senso non potendo diciamo spendere cifre importanti eccetera eccetera ha fatto quello che poteva la Lucchese secondo me oltre a un attacco che non segna nemmeno con le mani c'è anche il fatto che ha un centrocampo dove comunque manca secondo me uno che gestisce la partita il classico giocatore che ora rallenta ora diciamo rallenta il gioco ora invece che tette i tempi dai esatto e poi manca un po' di filtro perché tante volte onestamente le avversarie hanno il centrocampo a mano che si tratti della prima classifica che si tratti dell'ultima classifica è successo con la Recanatese è successo con l'Alessandria è successo con il Fiorezzuola cioè quando le altre squadre hanno appunto anche giocatori di categoria semplici giocatori di categoria ma hanno quelle caratteristiche è l'impressione che il centrocampo riescono a prendere il sopravvento si 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 prendono il sopravvento molto spesso gli avversari per cui dico probabilmente manca anche qualcosa in fase di interdizione magari la difesa soffre di questa cosa qui perché chiaramente forse Di Quinzio è stato fuori per me ma Di Quinzio è un altro giocatore forse essere lui il giocatore che no no neanche lui no perché lui ha sempre giocato esterno se sei un opinion leader micidiale ma senti volevo chiederti poi andiamo in pubblicità il tuo legame con la Lucchese il tuo legame contrattuale come sei? io ho un altro anno fino al 2024 sì ho capito quindi vabbè andiamo in pubblicità addirittura diamo la linea a Bedini Bedini che qualche secondo come lo vedi tranquillo Bedini è un po' agitato no no ora agitato no andiamo in regia e poi quando torniamo tu che sei l'uomo dei numeri e commenteremo con Francesco benassai la situazione è classifica anche perché è una classifica comunque devo dirlo questo onestamente al di là di tutte le critiche che possiamo fare sono critiche costruttive tecniche tecniche è una classifica insomma buona perché nessuno ha chiesto male a Lucchese chissà cosa ed essere comunque al nono posto perché al nono posto con tre punti di vantaggio sull'ex capolista Fiorenzuola io lo sapevo lo sapevo che rideva no perché lui quando si sbilancia i pronostici che spesso li sbaglia quella volta che li azzecca dopo ci gongola tutta la stagione no tu sul Fiorenzuola diciamo che avevi detto che non era proprio una grande squadra e adesso a vederlo quando era prima classifica dissi che stava facendo punti salvezza infatti faceva punti salvezza va bene andiamo a pubblicità e poi torniamo eccoci tornati durante la pubblicità noi parliamo no Francesco e lui essendo di Livorno prima abbiamo detto dello stadio intitolato al leggendario Armando Picchi io con una sciocchezza gli ho chiesto se l'ha visto giocare ovviamente tu sei del 98 98 hai visto dei filmati no? sì quello che credo sia uno dei livornesi più famosi sicuramente e io invece ti ho detto che anche io sono talmente giovane che l'ho visto giocare che mi ricordo non ride è fatto in tempo non a vederlo giocare forse ma perché ride no? te l'hai in classe insieme alle elementari eh no no vabbè stavamo dicendo che Armando Picchi probabilmente che è morto giovanissimo chissà senti è morto è morto credo alla stessa età si 36 anni di un altro grandissimo difensore Gaetano Scirea per due motivi diversi forse Armando Picchi penso non so se i divornesi all'ascolto sono d'accordo sarebbe diventato secondo me un grandissimo allenatore purtroppo la vita non gli è natato non gli è natato l'opportunità la vediamo questa classifica vediamo eh volentieri la vediamo volentieri ecco eccola qua eccola qua l'altro risultato ormai li conosciamo allora l'opinio leader vedi aguzza la vista per vedere se ci coglie se ci coglie siccome qualche volta è successo non la sbaglio no vabbè senti non opposto perché c'è sempre questa lotta con i Rimini no? però quelli dei Rimini devono pensare che se vogliono arrivarvi davanti devono fare un punto in più no? non opposto e tre punti di vantaggio sul Fiorenzola che dici? per adesso siamo nella parte sinistra classifica quindi per adesso va benissimo ecco noi puntiamo sempre al massimo ecco senti il massimo può essere faccio un'ipotesi della migliore magari la Lucchese adesso vince qualche partita consecutiva lo speriamo può essere un obiettivo può essere diciamo la zona gubbio? è a quattro punti ecco o la zona pontedera anche la tua ex squadra sì infatti però nel senso noi obiettivi non ce ne poniamo ecco noi pensiamo partita per partita poi quello che verrà verrà non è un modo di dire perché ce l'ha già detto il tuo compagno di squadra che era qui giovedì scorso che c'era giovedì scorso aiuta la mia opinion leader c'era lì Bruzzaniti Bruzzaniti sì è che veramente vivete alla giornata sì 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 noi perché darsi degli obiettivi poi dopo diventa ma secondo me poi ognuno la vive a proprio modo ecco però secondo me vivere alla giornata ti porta a beneficio ecco perché pensare domenica per domenica che è una partita a sé ecco secondo me è un bene quindi adesso sabato non l'abbiamo ancora detto però questa settimana la Lucchese gioca di sabato sabato c'è l'Alessandria torniamo all'orario al nostro mitico alle 17 ci mancava poi dopo martedì sera vabbè ora però siamo a marzo martedì sera alle 21 col Siena di Guido Pagliù che all'andata devo dire forse è stata una delle vittorie più belle mi sembra non lo so a Siena no a te come altre sì sì certo per l'ambiente immagino di sì ah certo sì per quello sì no pensavo e poi sabato successivo aiutami a Gubbio ecco tre partite in sette giorni quindi è un impegno anche ravvicinato non so se mister Mariah poi farà anche un po' di turnover effettivamente ne ha fatto poco perché alla fine siete giocate più o meno quasi sempre i soldi nonostante opinion leader che la rosa sia abbastanza ampia iniziamo a leggere qualche messaggio per vedere se perché dalla tua Livorno ogni tanto ci mandano qualche messaggio magari stasera col fatto che è qui un Livornese allora primo messaggio però parlano di Fabbrini parlano di Fabbrini e dice Massimo D'Aluca deter no però questo questo è questo Fabbrini è possesso di classe e talento che purtroppo non può dimostrare perché è impiegato senza continuità dunque Massimo D'Aluca dice Fabbrini deve giocare deve giocare di più mi auguro che Maraia si sia ravveduto e già da sabato prossimo lo schiera in campo sin dall'inizio tu conoscevi Fabbrini si certo lo conoscevi? conoscevo come come giocatore no come cacciatore sì sì certo certo conoscevo chiederti se ha ragione Massimo D'Aluca non posso chiedertelo però che impressione ha avuto lui è qui da poche settimane si vede che ha giocato in altre categorie ecco si vede proprio dallo spunto che ha si vede che è un giocatore molto forte però il mister siccome tu lo conosci bene e sicuramente il mister non è assolutamente uno sprovveduto anzi se per ora Massimo se finora non l'ha fatto giocare dall'inizio avrà fatto le sue valutazioni no? che dici? quello lo dovete chiederlo a me ecco no vabbè che dici che dici che dici che dici così acido no ma ma credo che però hai difeso Maraio questo assolutamente ma lo difenderò sempre Maraio perché come ho detto e non sempre fatto questo con altri allenatori no 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 ma io do a Cesare quel che è di Cesare anzi alcuni allenatori li hai duramente non torniamo indietro e facciamo noi li hai duramente criticati quindi ha ragione veduta e aggiungo io ah che c'è il mister Maraio secondo me ha fatto anche un cioè io vado contro tendenza perché leggo tante critiche sul mister ma come dicevo prima secondo me l'allenatore deve capire anche e lui l'ha capito quello che la squadra può fare quello che la squadra è ovvio che la lucchese ha vinto due mi pare due tre partite con più di un gol di scarto è ovvio che la lucchese le partite non le chiude no? tra un po' è finito il campionato però su Fabbrini che dici? ha ragione Massa no dico su Fabbrini probabilmente il mister Maraio magari Fabbrini era un giocatore che era tanto che non giocava no no e quindi magari agli occhi del mister magari non ha ancora i 90 minuti nelle gambe giocattelo dall'inizio poi dopo magari dopo sei sicuramente costretto a un cambio perché sai che non ha 90 minuti nelle gambe vediamo adesso se sei ad Alessandria magari che so appunto parte dall'inizio io non ho indicazioni precise potrebbe essere anche anche un'ipotesi beh qui i nostri telespettatori caro Francesco sono anche spiritosi perché dice Carlo buongiorno a tutti due settimane fa un Pisano Fabbrini oggi un Livornese e poi fa ma scherzo ragazzacci scherzo complimenti a Benassai per la stagione che sta facendo come commentate ecco qui ti risponde l'opinion leader perché io glielo ho detto prima che entrassimo in diretta guarda che come commentate l'ultima dichiarazione del sindaco parliamo di Pardini del sindaco di Lucca riguardo lo stadio dai intanto cominciare qui poi c'è un'altra domanda vabbè ha fatto una conferenza ha fatto una conferenza ha fatto una conferenza stampa un po' questo è un time di ieri mattina si ha fatto una conferenza stampa diciamo a 360 gradi non era chiaramente riferita solo al discorso stadio ma gli hanno chiesto anche dello stadio gli hanno chiesto anche dello stadio anche perché è una delle opere che verranno fatte diciamo a Lucca insieme a altre cose tu Francesco l'hai visto il progetto dello stadio? si l'ho visto hai visto? beh verrebbe molto bello verrebbe bello uno stadio così come stadio dopo siamo messi meglio che Livorno non so se a Livorno c'è il progetto per un nuovo stadio o meno anche perché è nuovo quindi quello di Livorno è molto vecchio ma anche questo se non lo sistemo non lo so qual è più vecchio dei due scusa opinione lì no no mi sembra che abbia risposto diciamo nella maniera corretta perché tu stanno aspettando il progetto definitivo no però lui ha detto stiamo aspettando il progetto definitivo come dire forse sarebbe l'ora qualcuno ha detto in qualche intervista che entro il 15 di marzo sarebbe arrivato il progetto definitivo io credo che c'è ancora 5-6 giorni a disposizione e credo che sia in interesse della Lucchese quindi quando andiamo in onda giovedì prossimo potrebbe essere ma credo che sia assolutamente in interesse della Lucchese quello di presentare questo progetto definitivo anche perché poi parte l'iter e prima parte e prima si arriva alla conclusione Carlo chiede anche quali scenari si aprirebbero secondo voi se Bulgarella non partecipasse alla gara per il rifacimento dello stadio però lui aggiunge forse ha qualche gabbiano anche se credo che parteciperà io credo che sia credo che sia lui ha detto quando è arrivato ha detto io non sono venuto per fare lo stadio non poteva dire cose diverse cose diverse credo che Bulgarella sia una persona intanto un imprenditore affermato e su questo nessuno può discutere però credo anche che abbia fatto poco calcio nella sua vita perché al di là della parentesi nella sua trapani e in una piccola parentesi a Pisa di qualche mese non è un uomo ha fatto grandi alberghi però ma non è che appunto non è un uomo che ha fatto calcio diciamo da 30 anni a questa parte continuativamente chiaramente ha diciamo come si dice mangiato la foglia perché quando ha capito che a Lucca oltre che prendere la società di calcio c'era la possibilità di fare lo stadio e non solo ah ecco quindi ti dici ma insomma ci prendiamo un giro però a Trapani parentesi dici però a Trapani fece anche dei risultati perché portò la squadra sì però dico non è uno che non è uno che ha a me ha fatto una bella impressione perché devo dire che porta gli anni in modo fantastico no ma al di là di quello è proprio giovanile sembra un giovanotto dai non è uno che viene dal calcio continuativamente da 30 anni a questa parte è uno che ha fatto un po' di calcio a Trapani nella sua città peraltro e poi ha avuto una parentesi di qualche mese a Pisa stop delle trasmissioni cioè neanche quindi vabbè però vedremo dai tanto ora fra un mese si dovrebbe insediare sì sì ma diventa difficile pensare che l'abbia fatto diciamo solo per la passione per il calcio perché altrimenti dico perché l'ha fatto pochi anni e poi non l'ha più fatto no vabbè ma l'importante è che lo stadio si faccia che Luca ma io sono poi il resto guarda Guido io ho sempre sostenuto che chiunque venisse a mettere soldi in una società di calcio che sia la Lucchese o che sia il Livorno o che siano altre piazze chiaramente ci deve essere un dare avere con la città quindi ma lo stesso Presidentissimo Maestrelli che all'epoca lo criticavano per i supermercati della Subbera che poi la gente non gli va mai bene nulla esatto leggo il messaggio di Luca della Gradinata agitata Luca della Gradinata agitata dice buonasera la Pantera dovrà azzannare l'orso grigio che non è un capo indiano ma è l'Alessandria credo anche perché all'andata poi ne parleremo l'Alessandria vi fece mica uno scherzetto da poco per fare tre punti e riprendere i due persi incredibilmente con l'Ancona saluto Francesco e vorrei chiedergli di blindare la difesa in queste otto partite tutti uniti per la Pantera Luca della Gradinata agitata ah ne pari col tuo amico Tiritiello sì eh vabbè blindare la difesa sarebbe una cosa perfetta ecco in otto partite prendere zero gol credo sia per la difesa comunque un successo ecco noi faremo il possibile perché come sempre lo dimostriamo in ogni partita e faremo il possibile per prendere meno gol possibile ecco sì però la difesa dicevamo prima con Giulio ora non so nei tuoi numeri a che posto è la difesa della Lucchese ma insomma diciamo che è immediatamente dietro dietro alle prime tre o quattro sì 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 ma sicuramente la difesa ha sempre dato grandi garanzie qui criticano Maraia criticano Maraia non si firma questo nostro ah sì è vecchio Panthers certe volte non si firmano però non capiscono che qui i messaggi rimangono tutti per cui io vedo poi dai messaggi precedenti chi siete dice metti coletta Maraia lui quindi dice in porta metti coletta datevi una svegliata si vuole vincere beh ora io non lo so non lo posso chiedere a Francesco perché lui naturalmente su compagni o forse sì beh Jacopo ce l'abbiamo tutti nel cuore perché è qui da diversi anni però questo cucchietto è accidente si può dire tutto meno che abbia fatto male anzi no certo Tommaso sta facendo molto bene come ha fatto bene prima Jacopo ecco eh lo so non è una scelta facile sono due portieri validi nel senso come nel calcio come succede in tutte le squadre ti devi giocare il posto e in questo momento sta giocando Tommy ecco allora questo invece dice ciao a tutti ascoltate i primi dieci minuti della trasmissione qui ci criticano mi sa e sono andato pazienza ha fatto la faccia preoccupata no dai ma noi ci preoccupiamo assolutamente dai e sono andato a controllare la classifica per sicurezza temevo di essere sbagliato ah ecco a vedere la lucchese in una buona situazione qui sta dicendo che io penso tanto per me quanto per te che hai criticato insomma sei stato un po' critica critica tutto e dice sono andato a vedere la classifica la lucchese nona è l'opinion leader mi sta a criticare che si gioca male a destra e a sinistra sta dicendo questo questo amico che invece non riesco a capire chi sia ma guarda a questo amico che ha scritto amico che non si firma amico che non ti firmi ti dico vai sul sito dei tifosi della Reggiana e vai a vedere quello che scrivono loro della Reggiana cioè si chiedono come facciano ad essere i primi perché fanno schifo questa è un po' la sintesi di quello che pensano i tifosi della Reggiana della Reggiana che è prima in classifica quindi figurati te e voglio dire la seconda la terza la quarta la quinta fino ad arrivare alla nona la decima eccetera eccetera quindi io ho sempre sostenuto che questo sia purtroppo un campionato assolutamente di livello basso quest'anno in particolare e ripeto stai dicendo questo anche rispetto ad altri gironi ma sì ho visto che per esempio se per me è sempre serie C il girone A è molto più equilibrato considera che la quinta ultima la sest'ultima potrebbe sempre entrare nei playoff ma credo che il livello di gioco Giulio sì 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 ma io sono partito da lontano sono partito da lontano Guido ho detto che il calcio ha subito un'involuzione a 360 gradi abbiamo visto un mondiale che ha fatto pena tranne la finale che è stata una partita diciamo perlomeno battagliata con tanti gol il mondiale ha fatto pena vediamo la Champions League di sera ho guardato due partite hanno fatto pena assolutamente sì fanno pena figuriamoci le squadre di club figuriamoci il C sentiamo cosa ci dice Mario Santini capello da Firenze che vorrei chiedere a Benassai cos'è successo al novantesimo contro l'Alcona si rifà all'azione del gol dei marchigiani c'è stato un cross dentro l'area un bel cross quello tagliato che l'abbiamo visto lì dovevo attaccare la palla come vediamo nel video è un pedini tonico accidenti dovevo attaccare la palla col destro e l'ho fatta rimbalzare e quando la fai rimbalzare non la prendi più era attaccante è stato bravo lui magari aveva paura attaccandola di destra con l'altupiede magari fa forse sì non lo so perché dentro l'area deve attaccare sempre adesso sinistro è una questione di secondi di decimi di secondi certo allora dice poi Mario Benassai lo reputo un ottimo giocatore e qui però Mario forse non ci ha seguito prima e mi piacerebbe rimanesse alla Lucchese anche il prossimo anno tranquillo Mario no? il prossimo anno Benassai è della Lucchese giusto? certo poi domenica abbiamo giocato una partita in 11 contro 10 per questa andava chiusa subito all'inizio del secondo tempo senza rischiare più nulla fate gruppo comunque però non è possibile sentir dire che abbiamo fatto una buona partita quando poi si raccattano le briciole e puntualmente si regalano punti a tutte le squadre anche più scarse della Lucchese forza ragazzi conclude Mario pensate a fare il playoff in buona posizione date tutto per questa maglia che sia bagnata dice lui vado a strizzare a fine partita Mario è un grande è un grande tifoso della Lucchese è un grande rocchettaro lo possiamo dire grande appassionato di musica buonasera mi chiamo Marta Marta o Maria Marta parlando della partita uno è critica sul gol che la Lucchese ha preso poi dice anche critica anche il portiere che neanche ha tentato la parata di pararla non so se si lo rivediamo ancora questo gol Matteo Bedini voi anche non avete fatto nulla per impedirlo noi non eravamo il campo il pignolire era ingradinata e poi dice Marta sei ferocissima e poi grandi azioni belle ma senza chiuderla ma che aspettate a tirare fuori e qui dice aspetta la vediamo ecco qua lei critica addirittura anche il portiere non lo so quando te la tocca da non ci poteva arrivare da 3-4 metri non so cosa poteva fare non ci poteva arrivare e non penso neanche che potesse uscire perché comunque l'accaccante era coperto quindi e poi dice Marta ma che aspettate a tirare fuori la grinta cosa gli rispondi a Marta Francesco dai io penso che quando scendete in campo cercate di mettercela sempre tutta su questo certo la grinta ce la mettiamo sempre e diamo sempre il massimo poi la grinta vuol dire picchiare e farsi buttare fuori non penso che sia io dico che come ho detto anche prima andava chiusa prima la partita però se non avessimo preso gol prima all'ultimo nessuno avrebbe detto niente secondo me nel senso avresti vinto 1-0 e sarebbe finita lì la partita il risultato sai condiziona molto eh no no certo sono d'accordo c'è Linda che è un'altra grande tifosa buonasera sono Linda voglio innanzitutto mandare un grande abbraccio al Docche sì grande tifoso della Lucchese ecco questa noi sai siamo abbastanza ironici come vedi sempre tendiamo a a scherzare e a far sorridere un po' la gente perché signori se ci mettiamo a drammatizzare anche su su quello che è un divertimento è un gioco come il calcio è finita quindi lei dice Linda un grande abbraccio al Docche grande tifoso della Lucchese per la perdita odierna della mamma sì l'avrei detto in fondo a fine trasmissione però visto che Linda ci ha anticipato faccio le condolianze anche io personalmente a Enrico e il Docche Enrico sì naturalmente le condolianze da parte anche mia di tutti noi perché credo che insomma quando si perde un genitore quando si perde la mamma sia una cosa poi un saluto a Francesca a cui chiedo se si trova meglio con la difesa a 3 o a 4 ho giocato tanto a 3 a Pontedera e invece a Taranto e a Lucca sto giocando a 4 a 3 forse diciamo mi trovo meglio tra virgoletti si può dire perché mi piace molto giocare la palla quando gioca difesa a 3 comunque è più facile anche andare in avanti è vero e sì diciamo che mi piace più a 3 magari scambiandosi con il con il quinto certo sì sì lo so poi ti chiede sempre Linda che è molto attenta Linda non sono una grande tifosa ma è molto preparata se ci dici qualcosa su De Maria visto che se non sbaglio dici che ci hai giocato assieme al Taranto e noi non l'abbiamo ancora visto vabbè ma Rai saprà quando è il momento è l'incanto con De Maria Taranto sì certo è un ottimo giocatore secondo me l'unico problema è che deve entrare ancora bene in forma perché è stato diciamo col Taranto mi sembra risolto il contratto a dicembre quindi è stato un mese e mezzo due non è facile per qualunque giocatore questi livelli visto che parliamo di professionismo Francesco stare fermo cioè un mese non è che uno sta fermo sul divano per un mese e mezzo ma ricorre fa qualcosa però non è la stessa cosa che fare la preparazione allenarsi con la squadra cosa vuol dire stare fermo un mese un mese a te penso non ti sia ancora mai accaduto però cosa significa che devi ricominciare da capo stare due mesi fermo correre da solo allenarti da solo non è facile poi non tocchi male la palla per due mesi non è facile poi quando rientri in campo dopo due mesi toccare la palla ci vuole come minimo penso qualche settimana ma come minimo come minimo poi penso non ce neanche i 90 minuti no quello assolutamente discorso di Fabbrini di prima poi la partita è completamente diversa da qualsiasi allenamento pur che sia un allenamento diciamo anche si dice il ritmo partita sì ritmo partita chiaramente non te lo danno anche l'allenamento più l'allenamento fatto meglio al mondo non ti dà mai quello che ti dà la partita perché comunque anche sui contrasti magari abbiamo sforato clamorosamente dobbiamo dare la linea alla regia Fedini vieni a bussare alla porta perché stasera andiamo andiamo la linea sì no andiamo la linea alla regia stasera siamo eh siamo tonici linea alla regia poi torniamo stasera abbiamo perso un po' i tempi io l'opinion leader però abbiamo Matteo Fedini che ci rimetterà in riga con noi Francesco Benassai difensore centrale sei del 98 no se non sbaglio 19 maggio 98 quindi al 19 maggio fai 25 25 anni eh l'opinion leader 25 anni va bene allora dice Linda un saluto a Giulio siamo quasi coetanei sì un saluto a Giulio a cui vorrei chiedere cosa pensa dell'utilizzo degli under soprattutto nella prossima squadra quindi lei dice nella prossima stagione che verrà allestita io so cosa dirà perché ne parlavamo prima di là in redazione no allora chiaramente eh ogni ogni stagione ha il suo frutto come si dice no quest'anno la lucchese ha dovuto per i motivi che tutti sappiamo eh schierare le under per il minutaggio per arrivare a fare diciamo un budget diciamo derivante appunto dal minutaggio dal fatto di far giocare le famose quattro quote è ovvio che se un giovane forte gioca e gioca a prescindere dal minutaggio mi riferisco in particolar modo a Flavio Bianchi no quando è venuto tre anni fa due anni fa insomma Flavio Bianchi era un giocatore che era una quota però chiaramente era una quota che faceva la differenza quindi io credo che se i giovani sono forti devono giocare ma non è che devono giocare per fare il minutaggio questo no sicuramente quest'anno è andata così il prossimo anno con l'avvento di 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 si presume si chiede si pretende che venga fatta una squadra diciamo da primissime posizioni poi non è detto che si vinca questo poi stai dicendo c'è un giovane forte poi se se viene Flavio Bianchi il Flavio Bianchi del prossimo anno giocherà sicuramente titolare perché è giusto perché è fortissimo però non deve essere una prerogativa diciamo di inizio stagione una condizione sine qua i giovani giocano se sono bravi una domanda Giulio metteresti in mano questa è una domanda complicata perché tu del mister giustamente ne hai sempre parlato bene però Leonardo 69 lui si esprime dicendo subito di no lui Leonardo 69 ti chiede se il prossimo anno con una squadra che Bulgarella potrebbe allestire perché no anzi secondo te dovrà allestire molto competitiva se la faresti allenare a Maraia ma io ascolta credo che Maraia cioè il curriculum di Maraia parla chiaro cioè è un allenatore che ha sempre allenato delle tipologie di squadra basate essenzialmente sui giovani con obiettivi basati essenzialmente sul fatto che la squadra si doveva salvare però mister Maraia ha sempre fatto quel qualcosa in più perché a Ponte Lera se non erro in 5 anni ha fatto 3 volte playoff se non erro in 5 anni a Ponte Lera quindi non solo ha salvato la squadra giovane come erano perché siete stati anche molto giovani 2-3 anni fa mi ricordo era una squadra giovanissima quindi a Lucca sta facendo altrettanto perché a Lucca sta prendendo una squadra che gli era stato chiesto di fare una salvezza tranquilla farà una salvezza tranquillissima perché non abbiamo mai rischiato di essere succhiati nei bassi fondi della classifica e addirittura ti porterà ai playoff però dico anche questo che ogni allenatore ha il suo curriculum faccio un esempio Davide Nicola che è un allenatore molto bravo allena in Serie A per salvare le squadre in situazioni anche disperate difficilmente andrà a allenare l'Inter per vincere il campionato ma è dire ma non si sa Sarri che è un allenatore che comunque ha vinto uno scudetto con la Juve ha vinto uno scudetto con il Cezi eccetera eccetera difficilmente andrà a allenare la Cremonese con tutto rispetto per la Cremonese e per Zani vi stai dicendo ci sono dei target ci sono dei target per cui penso che Maraia sia un bravissimo allenatore per determinati obiettivi che però il prossimo anno potrebbe esserci un altro allenatore in questo non dipende da me non lo dico sicuramente è chiaro che per parlare e per rispondere a Leonardo 69 lui ha le idee chiare Leonardo 69 lui direbbe di no però è chiaro che lui deciderà Mulgarella decideranno quelli che saranno gli eventuali non lo so nuovi dirigenti non ha mai allenato squadre diciamo di vertice per cui ma ha sempre fatto bene con determinate squadre quindi per me uno più uno fa due secondo Ioni esiste un caso coletta io però non mi risulta non credo che sia così al di là delle informazioni che avete o meno cosa ne pensate lui dice vorrei che si parlasse del caso coletta e si spiega dice per me lui è il primo portiere vi ricordate Falcone alla Sampdoria rientrato a Udero dall'infortunio tra l'altro Falcone è stato qui a Lucca qualche anno fa Vladimir nonostante le sue ottime prestazioni è tornato in panchina e sono d'accordo con il tifoso che Fabbrini deve giocare dall'inizio al limite si toglie nel secondo tempo saluti Ioni beh l'abbiamo detto coletta si è fatto male infortuna anche piuttosto tra l'altro quando venne qui da noi diversi mesi fa si era fatto male era Claudi Cante è entrato Tommaso Cucchietti e ha fatto benissimo io non lo so bisognerebbe essere poi vabbè ci sono altri casi mi viene in mente ad esempio il caso quest'anno all'Inter che hanno preso il portiere giovane il portiere nuovo e poi a un certo punto Inzaghi ha detto no ma gioca Andanovic poi dopo in realtà ha cominciato a giocare non lo so di sicuro Francesco il portiere è un ruolo delicato non è che si può dire la domenica gioca uno la domenica gioca l'altro poi l'abbiamo detto prima Cucchietti sta facendo bene sì sì certo come dicevo prima Jacopo inizialmente cioè avrà iniziato lui a giocare poi sfortunatamente si è fatto male è entrato Tommaso ha fatto bene non ha perso il posto è chiaro che star fuori dobbiamo dare merito anche a Tommaso no poi star fuori capisco in questo momento Coletta magari ha recuperato bene tutto quanto però sono scelte che deve fare l'importante è che a difesa la porta lucchese ci siano bravo dico io poi ma secondo voi l'allenatore in quale percentuale contano una squadra in Serie A si pensano più del 30% un saluto da Daniele che poi dice bravo Giulio concordo con te sia Champions che Serie A Penosi forza Daniele da Lammari forza lucchese Daniele da Lammari la vicenda tu quanti allenatori hai avuto nella tua carriera già qualcuno sì non tantissimo nel professionismo due Maraia la terza secondo te quanto conta un allenatore in una squadra di calcio secondo me è 50-50 addirittura 50 cioè le fortune di una squadra il 50% sono legate alla bravura o meno no no tanto le fortune secondo me l'allenatore è il 50% dalle idee e dall'atteggiamento eccetera eccetera e il giocatore decide di mettere qualità atteggiamento e le idee che dà il mister tu con Maraia ti trovi bene sì certo mi trovo bene sì sì e ti dispiacerebbe se non ci fosse più il prossimo anno eh sì certo mi dispiacerebbe opinion leader questo è un po' come il vecchio contenzioso come se è nato prima l'uovo la gallina quasi no no diciamo che forse forse ha ragione Francesco nel senso che 50 cioè in serie C sicuramente l'allenatore conta molto di più che in serie A sicuramente sì perché insomma in serie C ti trovi anche appunto a gestire situazioni posso fare una battutaccia certo dubbiamente quando vanno a Paris Saint Germain contano poco eh quello di sicuro no è chiaro che un allenatore in categorie inferiori come la serie C si trova molto spesso dove cioè a doversi così comunque confrontare con tanti giovani con magari con poco gente anche alle prime armi nei professionisti anche un ruolo anche un ruolo diverso diventa un ruolo diverso e poi soprattutto a livello della gestione del gruppo sono d'accordo con Francesco perché per esempio tanto per non andare troppo a ritroso io sono convinto che la lucchese dello scorso anno con Pagliuca ha fatto bene se c'era un altro allenatore non lo so se avrebbe fatto altrettanto bene allora qui a Luca l'abbiamo detto più una volta c'è la la psicosi dei tempi di Corrado Enrico da avere l'allenatore che magari gesticola sbraita in campo che entra esce dall'area tecnica però un minuto e tredici ti voglio proprio mettere in difficoltà stasera di fronte a Francesco Benassai così da chito ma mi devi rispondere prima di andare in pubblicità il più grande allenatore che ha mai avuto la lucchese Corrado Enrico non sono riuscito sei sicuro assolutamente al cento per cento e perché perché era un allenatore che al di là dei risultati era un allenatore che tanto faceva uno scudo intorno alla squadra unico e questo secondo me è importante lo faceva anche fisicamente poteva fare sì sì lo faceva anche fisicamente senza problema poi magari all'interno durante gli allenamenti prendeva Tizio giocare a Semproni li trattava anche male però era quel trattare male da padre da padre capito che serve e i giocatori qualche volta può servire assolutamente e lui ha avuto solo la sfortuna di di voler imporre le sue idee in un calcio che le sue idee le rifiutava a prescindere che era quello di Serie A perché altrimenti lui avrebbe avuto cioè fu un innovatore in quegli anni fu un grande innovatore venne a Lucca la gabbia la zona ma poi venne a Lucca il grande foggia di Zeman prese due pappine e andò a casa per esempio dobbiamo rispettare i tempi c'è questo telespettatore che ci chiede stasera è uno dei temi ma Coletta quando rientra non te lo sappiamo dire questo noi non siamo in grado di dirtelo linea alla regia e torniamo subito dopo Bedini tutta la sua magnanimità ci ha dato otto minuti e mezzo dai dai veloce 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 otto minuti e mezzo dai va bene dai qui torna addirittura alla partita dell'andata con l'Alessandria forse hanno visto le immagini ora per dire che insomma c'è qualche responsabilità anche del portiere poi troppi anni che non vi si incontra questo da dove chiama che ora no questo termine non mi piace non mi piace diciamo che sfide le guerre purtroppo lo vediamo sono altre che sfide con voi beato che ha vissuto certi anni questo questo è dedicato a me saluti da Spezia Nicolò salutiamo Nicolò da Spezia salutiamo Nicolò da Spezia è vero con lo Spezia? assolutamente erano le partite più infuocate ci sono stati era usato il termine guerre ma guerre Nicolò mi capirai che ci sono stati purtroppo ce ne sono altre ci sono stati durante gli anni 80 belle sfide dai consistenti Nicolò non so se c'eri ma se c'eri capirai ma te c'eri Giulio? c'ero c'ero ma forse c'era anche Nicolò perché se gli mancano ma dimmi la verità ma a te ti mancano no? ma eh dai sì onestamente ti dico che mi mancano anche se erano esagerate perché capisco capisco questo ti volevo sentire capisco diciamo che andando avanti negli anni ho capito che erano cose esagerate però non ti puoi immaginare quello che voleva dire in quegli anni lì l'attesa di una partita di calcio che oggi purtroppo non c'è più senti Francesco come si vivono queste ultime otto giornate hai detto alla giornata così proprio cioè partita per partita beh sì come ho detto prima dobbiamo viverla settimana in settimana ecco che è una partita ogni partita a sé e arriveranno partite molto difficili perché ora le ricordiamo affronteremo se non sbaglio tre e quattro squadre che stanno sopra di noi ora le ricordiamo se non sbaglio Cesena Entella e Gubbio tabelle come è successo tante volte di fare tabelle non ne avete fatte no non ci pensate no 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 niente tornate a Lucchese a 41 punti mi pare sì comunque devi incontrare Cesena Entella Gubbio e Calarese facciamo l'elenco sabato ad Alessandria poi c'è il turno fra settimanale che non è l'ultimo anche a Siena avanti Lucchese Siena in casa poi sabato 18 marzo a Gubbio che può essere anche una rivale diretta però sono due squadre che sono avanti poi il 26 marzo di domenica al Porta Elisa arriva la Fermana poi le ultime giornate soprattutto le ultimissime conta molto anche le squadre che vai ad affrontare cosa hanno ancora da chiedere no? sì 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 cosa si giocano anche loro ecco se si giocano qualcosa il primo aprile a Cesena se il Cesena fosse stato lì a due punti dalla Reggiana probabilmente poteva essere più complicato lo sarà comunque no però Cesena primo aprile di sabato credo che Cesena e Intella si giocheranno fino all'ultimo il secondo e il terzo posto Cesena mi sembra che abbia risentito della sconfitta con la Reggiana può darci sicuramente però poi il 6 aprile che invece è il giovedì santo nel senso che poi siamo a Pasqua e arriva qui a Lucca la Virtus Entella che dovessi dire in questo momento mi sembra la squadra più in forma sei d'accordo Francesca tra l'andata rischiaste di vincere a proposito di andare all'ultimo anche lì anche lì prendeste gol al 90 mi piace perché ci ride però vabbè fu quella respitta di Cucchietti che non si è mai capito se il pallone ha passato la Liga fosse entrato o meno lì non c'è la gol technology te la ricordi sembra che c'è di te sulla Liga tra le altre cose o nei pressi il vicino quindi che ci dici era entrato? non me lo ricordo non si può dire meglio non dirlo non mi ricordo io dico il guardialine occhio di lince il guardialine di quella partita il guardialine secondo me è difficilissimo nel dubbio lasci correre non è che nel dubbio dai il gol è come quando devi concedere un rigore nel dubbio lasci correre il rigore è una cosa troppo importante per assegnarlo nel dubbio un gol se non sei sicuro che abbia passato il pallone completamente la riga lasci correre per quello l'ho chiamato occhio di lince poi il 15 aprile di sabato c'è Carrarese e Lucchese Carrarese si è ripresa a Macina va bene e poi domenica 23 Lucchese e Olbia e poi qui non possiamo ancora farlo e non lo vogliamo fare per scaramazzia potrebbe esserci un domenica un domenica 30 aprile è un calendario come lo definiresti difficile non è facile molto difficile però va detto che voi con le squadre con le grandi squadre chiamiamole così spesso avete fatto quasi le partite mi ricordo quella con Cesena con le due sfide anche con la Reggiana a Chiavari rischiaste di vincere quindi sì 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 secondo me ora arrivati a questo punto qua sono tutte difficili le partite perché anche una squadra come Olbia che lotta per la salvezza nel senso dà tutto pur di vincere però vedi magari il 23 aprile quando arriverà Lucca chissà che fine avrà fatto l'Olbia magari salva magari non lo sappiamo le ultime partite ci vuole anche diciamo un pizzico di fortuna vediamo se è preparato l'opinion leader sulle ragazze giocavano a Roma quarti di finale di Coppa Italia hanno perso 1-0 hanno perso 1-0 no la cosa curiosa è che nel turno precedente avevano venuto 1-0 con un gol della Piccini e stavolta devo dire che stava una partita in cui sono state autorete della Piccini sono state molto sfortunate perché sinceramente non meritavano di perdere però nel calcio non è che sei devi far gol purtroppo non l'hanno fatto finisce qui questa avventura prosegue però il campionato che le vedrà domenica in trasferta in Sardegna sul campo del fanalino di coda Pianu dovrebbero essere tre punti che potrebbero riportare la squadra di Toni Carruzzo abbastanza vicina ad altre squadre e quindi cercare di guadagnare qualche posizione che sarebbe effettivamente effettivamente utile siamo quasi in chiusura voglio chiedere a Francesco cosa sogni di fare da grande è una bella domanda questa no no non è una bella domanda scema però arrivare la stessa domanda all'opinion leader più in alto possibile quindi a livello personale quindi serie A so che ho saputo casualmente perché l'opinion leader indaga è curioso ho saputo che so simpatizzi per quei colori nero azzurri come nasce questa passione in famiglia da mio babbo si che ti fa inter da tuo babbo ma la segui quest'inter o no si si sono tifoso 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 ecco e come facciamo allora oggi che è il 9 marzo dico io sono 115 va detto lo so che adesso mi attirerò a tutte le antipatie ma è una realtà 115 anni portati bene si dai benino benino forse avessi un'altra proprietà anche meglio però vabbè dai quindi mi vorresti dire che è più vecchio la lucchese certo di tre anni o sbaglio nel 1905 eh sei contento sì 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 la lucchese credo che sia in assoluto una delle più antiche penso sia il Genoa addirittura 1800 va bene Francesco è stato un grande piacere averti qui con noi anche a me mi raccomando queste ultime 8 partite a doppia mandata la chiusura la vita gol non ti ho chiesto come siamo messi a zero quello che abbiamo capito ma vai avanti quando ci sono eh certo speriamo che arrivi in queste 8 partite lì sta vincendo 2 a 0 sì sì quindi bisogna comunque un paio di gol è fatti poche ne faccio durante l'anno sì poche Pino Leader noi ci ritroviamo giovedì no? assolutamente va bene? certo grazie a Matteo Pedini allora chiudiamo in perfetto orario dopo di noi credo che ci sia la replica sempre di quelle belle trasmissioni legate a emozione vaica alla bicicletta eh? con Irene del Papa con Giulio del Fiorentino tra poco tra l'altro si potrà ricominciare ad andare in bicicletta regolarmente io non ho mai smesso io non ho mai smesso e sei pronto il 18 per la Sanremo assolutamente va bene grazie a tutti voi grazie di essere stati con noi a tutti quelli che hanno mandato messaggi appuntamento a giovedì prossimo ciao Grazie a tutti.